ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo sì sì ci siamo signor si sente signora ragazzi buonasera e benvenuti a tutti quanti siamo qui oggi siete qui stasera con frasi bruffe e con bagar street ciao 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 però un nuovo appuntamento sulla consueto ormai giornaliero come come da un paio di giorni sulla live di gta 5 o c'è il cavallo di battaglia c'è il cavallo di battaglia c'è il cavallo di battaglia lo vuoi sapere lo volete sapere cavallo di battaglia no un saluto un saluto a concettina perché d'ora in avanti le live saluteremo sempre e comunque a concettina che poi concettina la figlia ma concetta chi è la sarta no concetta non non cominciare guarda non deve cominciare concetta è una concettina è una ecco concettina sarebbe lei vedi questa che vabbè tu non la vedi giustamente comunque concettina che sarebbe la figlia della zia rosa la figlia della zia rosa ora ora se n'è andata io non la vedo al tuo comunque scappando come le concette penso la moto che racconta comunque ragazzi abbiamo cominciato la live questa sera con discorso abbastanza profondo e se no infatti facciamo stare molto molto morale si parlava di futuro di lavoro iniziative in italia purtroppo sappiamo che purtroppo sappiamo che in italia la situazione abbastanza abbastanza critica quindi si cercava di capire a cosa è dovuto questo insomma vista vista vi sta dicendo in poche parole sti soldi dove cazzo sono che se le prese che non ci sono soldi i soldi in italia il discorso fondamentalmente era quello ma dove sono che cazzo c'è scusa concettina concettina no perché concettina nasce povera e morirà comunque comunque effettivamente 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 sei noto ti dicevo sai di cazzo come alla fine iniziative forza di volontà che ha per il fatto sì ma chi è che si sta diciamo che non è un discorso da fare davanti al gta questo sicuramente mi stanno crepando vabbè tanto alla fine magari i nostri followers no non per quello no no non per quello non per quello perché comunque diciamoci la verità che noi ci mettiamo qui giusto per non pensare fare capito faccio è tipo un talk show il nostro anzi d'ora in avanti lo chiamerò gta talk fantastico mi è venuto adesso così ma alla fine questa è nata è nata come più che altro un passatempo per non poter impazzire durante questa quarantena fondamentalmente sì infatti perché io stavo uscendo pazzo c'è infatti stavo cominciando a fare i capelli bianchi laterali fortunatamente si sono riscuriti sì sì no erano i pensieri erano i pensieri comunque noi siamo qui per intrattenervi allora come al solito partiamo col sondaggio chi vuole bruno fuori dalle palle attenzione non mi piace dovete commentare ragazzi prima mettete il mi piace c'è l'ignoranza adeguata ma io devo capire devo capire ma simone felice si collegano simone ha detto che io ci sono a felice c'è ma tu non dici niente io sto giocando a lol da qualche tempo ci faremo anche una live prima di tesi felice è uno che vedi è si è fatti i cazzi suoni non gliene fregava niente ma che cazzo stanno i nostri fans no io sto bestemmiando intanto no o ciccio ma mi sono rotto le palle e sono un'ora qua con caricamento gta online e non lo so non mi entro non mi entro c'è o meglio non mi entro il gioco attenzione non mi entro il gioco perché già c'era bruno che sta presponendo perché sei cacca o entrato entrato mi sono scordato di attaccare il joy ma ci mamma la taglia no ma niente ma è stato stupendo lui ma io non avevo una data passiva attenzione la situazione adesso porca miseria secondo me bravo tanto ma paghi tu bravo tanto sono testa e cococillo aspetta un secondo aspetta un secondo tanto la paghi porca miseria la portatemi xd xd ma devo chiedere al moderatore naturalmente un saluto al mio moderatore ciao di un saluto a don matteo il cricchetto ok allora allora io sono dentro tutto quanto ok tutto tutto quindi ora dovrei entrare nella tua partita suppongo in teoria sì quindi però aspetta devo vedere se sono in modalità passiva è questo qua è cominciato a rompere le palle però abilità la modalità passiva non è che per favore mi posso mi posso tipo infilare io senza che tu mi inviti si non apposta non apposta già fatto io tranquillo ma sono visto è ucciso il mio amico per c'è 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 c'ho un giubbotto capare frangente non mi ha visto vabbè ma era era sera o era giorno e giorno ero che cazzo ma cazzo pure se era giorno ti poteva vedere col catarin frangente allora perfetto cosa cosa vogliamo fare facciamo il corpo di risa ah sì perché aspetta spieghiamo però una cosa attenzione ora sono serio momento catartico praticamente avevamo deciso ieri di fare il colpo pomeriggio però poi ci siamo detti perché farlo pomeriggio e non dare la possibilità chi non ci aveva visto il giorno prima spegnete i telefoni a chi non ci aveva visto il giorno prima di vederci oggi e quindi noi furbamente furbescamente che cosa abbiamo fatto furbacchionamente ok che cosa abbiamo fatto semplicemente abbiamo detto no il colpo lo facciamo oggi oggi vieni da me vieni da me vai da lui vai da lui ho cambiato i coperti nella moto guarda ragazzi per chi ci segue mi raccomando commentate domani pomeriggio vogliamo fare un video e commentate su che cosa vorreste che fosse incentrato il video attenzione ok da lì che ce ne ha fatta una gara che dita la gara sì ma manca manca un simone o sbaglio manca simone di fare c'è un mal di test ragazzi questa sera mi sa che ci ha lasciato ma sai che allora io per per non mancare l'appuntamento live per non mancare ai miei fan e ai nostri fan mi sono preso un paio di bustine per poter essere davanti al copilato sei stato ottimista ai nostri fans attenzione i nostri fans che cazzo vuoi ma io voglio iniziare questa attività che non c'è nessuno che vuoi ancora insisti aspetta va che hai letto la palla no fa è già piena l'azione dai parla eh dice vediamo dai vieni qua vieni qua vieni qua non scappare cretino vieni qua che fanno aspetta sto ah ma scappando io vuoi sì dai dai parla vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua non scappare cretino vieni qua bene ma scena è un sussore sussore tamma allora scendi no tanto non scattano le gomme sono antiproiettili facciamo scattare lo stesso allora online attività avvia un'attività illegale creata da rock star modalità competizione come si chiamava bene ma di qua ci posso andare io e che figata e c'è una macchina però che faccio voglio fare mamma come rompete le scatole non scazzano ma basta destra mantiene il passo c'è ora c'è ora attenzione attenzione micidia l'attenzione mi ha propinto cazzarola c'è un paracadute scomparto c'è dove si è andata per morire a caso sbagliato cazzarola grande no stavo facendo l'attività ok perfetto ci sono bilanciamento squadre no ora attuale round 2 conferma impostazioni in vita non c'è c'è l'aeroporto si c'è l'aeroporto ok ragazzi accettate l'invito addirittura capretto ti ha mandato una richiesta di amicizia su facebook ma come sono bello così mettiamo sempre radio come sia non c'è davvero ah ecco non stop hop fan ma ah è una gara proprio pensavo che facessimo una missione mettete sul radio non stop hop fm radio non stop pop fm ma tanto noi abbiamo disabilitato la musica perché youtube non vuole si non la possiamo fare ascoltare però la cantiamo no no lascia stare fantastico mi sono aggrezzate le carni occhio le carni le carni tutte le carni però ma dici che se mi fa suonare quella chitarra è sempre copyright no perché la farai sicuramente più di merda di come la fa l'originale cioè no non per offenderti nel senso esce diversamente come capito vabbè ti volevo offendere cazzo vuoi ti volevo offendere grazie grazie prego prego un saluto sempre a concettina ricordiamo supportiamo concettina un saluto di nuovo a come si chiama a giovannino che quando era piccolo mi giustava le basette ci scrivono dal lago di como ci scrive lucia dal lago di como un saluto a renzo cacchia rola ci manca simone se c'era simone se c'è simone ha detto se veniva o meno e vabbè questi voglio dire saranno anche cavoli suoi nel senso io non lo voglio sapere non so se è capito cioè di intimità poi ognuno c'è la sua intimità io ma che famo possiamo iniziare noi tre è no perché bisogna essere per forza in quattro no quale quattro squadre siamo 15.000 ci sono tre 2 5 2 7 2 9 tutti l'ultima attività della lista dell'ultima attività invita anche voi tutti della sessione attuale anche noi no ok invita il giocatore a posto a posto mi sa che ne stiamo uscendo mi stai facendo venire il vomito anche anche guarda sì sì dai ma nessuno vuole via fare rp tripli ma tanto io qua muoio voglio subito mi sa che un saluto a francesco 30 lancio che ci guarda un francesco un saluto a francesco un francesco al saluto fantastico salutiamo francesco francesco quello di ieri chi era francesco spanò no no quello era federico spanò se non ricordo e moderatore te lo ricordi vediamo se mi rispondo un saluto a d a v a c un saluto ad a v c faccio un saluto al tuo moderatore si saluta al mio moderatore o sta entrando smal smal questo viene dall'arabia saudita e un è il figlio di un ricco lo conosco un figlio di un ricco petroliere lo conosci si si a parte dell'opec lui sta giocando contemporaneamente con la ps4 pro l'xbox one x e quello con la 2080 ti contemporaneamente tutte con le stesse con uno chic uno chic uno chic uno chic pronto a giocare pronto a giocare no no si si bobo ma perché stia abetti e stupide ma perché tipo no me li sceglie lui perché si suono ma perché me li sceglie lui a caso così no chic perché no ci non mi dare questo dai a parte che sono loschissimo se sembra un penna la persona commentate perché devo fare un tatuaggio commentate come vorreste il tatuaggio e mi raccomando ragazzi seguite anche iscrivetevi al canale manuel makeup mi raccomando un saluto a romeo da parte di giulietta c'è arrivata adesso comunicazione ma a renzo l'hai salutato da parte di lucia c'è già fatto dal lago di como ci ha scritto ne dovete andare in mezzo alle palle ma perché siete davanti a me guarda guarda che testa di cazzo guarda che testa di cazzo devi morire e mi metto vicino a te per farti morire dove vai ma perché dovete farvi del male no è bruno e che rompe le palle vedi che rompe avanti che no no tu blue bull ti sto dietro l'ho visto pure io che è bruno ma non si impara maestro sta dietro io vi lascio andare avanti ma la lascia sta godo come un riccio attenzione no esplodo no non ho capito e così deve essere devi esplodere occo che sono a fianco a te no no non ti voglio far sbattere ce la giochiamo così ma tu sei sempre più veloce di me perché sono sempre più veloce di me oh caduto ciao eh sì ciao è stato bello quindi sono rimasto solo farò la gara da solo amici amici telespettatori perché come 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 dicono qui da noi chi troppo vuole non la stringe facciamo un saluto a tutti i mulettisti salutiamo anche i muletti hai la macchina allora allora hai la macchina fuccia fuccia wow meraviglioso hai fatto fuccia nel secondo settore ho fatto fuccia come dice la clerk fuccia fuccia lui dice fuccia Gira 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 Oh dimmi L'importante è che cammina Minchia stavo per scoppiare ciccio Stai scoppiando No Mi sei salvato per il rotto della cuffia Ah Il rotto Della cuffia Praticamente amici dovete capire No stavolta sono esploso Ho sbagliato Ho sbagliato maledetti però Round vincitore attenzione Un saluto al vincitore Ti sei preso un applauso Non ti ho sentito Ti sei preso Ti sei preso un applauso Sembra più Un peto a scellare Un saluto Fateci sapere chi sa fare i peti a scellare Un saluto al Jerry Lee Che ci guarda come ogni sera Chattateci Chattateci tutti Ma perché io c'ho la macchina fushia C'ho chattata Fushia ce l'hai? Ce l'ho fushia guarda Io c'ho l'arancione Sembra come una tartaruga ninja Guarda Un saluto a Federica Che è sempre un'amica Chi è quella macchina rossa che mi imbutta? No io sono quella arancione all'altro Fate più là Fate più là Dai dai Ah ma tu sei Ah chi? Guarda guarda Bastardo Taglia Bruno Sei una merda Bruno Oh Bruno Però guarda Ma riesce a giocare onestamente Cioè riesce a giocare onestamente Senza rompere i coglionoli Guarda 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 Devi morire sai Bruno Io voglio sapere che c'è dietro di me Io? Sì ma non sono io che ti sto facendo quello che ti sto facendo Eh sì Attenzione siamo dietro a capretto A capretto Ecco 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 Ui Bastardo è dietro di me eh Rompo le palle Attenzione micidiale Unico numero Ragazzi Ragazzi non mi hai preso il checkpoint Numero Adesso allora esplodi Ah ho sbagliato cazzo Cazzo sei imbuntato Sono bloccato Sei morto Ciao Addio Ciao Ciao Ok sono dovuto tornare indietro Per fortuna Sotto contro di checkpoint Ma ha fatto la stessa cosa che Dai no non ci credo Ma qua dove siamo Al porto di gioia tower Ok mi sono salvato Proprio sai per quanto Ma perché non mi prende i checkpoint Hai visto è buggato Pure a me è prima che è successo Un saluto ad Alessandro Che ci segue da San Biase Un saluto Molto affettivo A Max Pezzali Che ci ha dedicato Una canzone Un saluto anche A Venditti Che mi segue su Instagram Ciao Antonello Nooo Devi morire Bastardo Devi morire da solo Come i cani Devo avere un maserato Devi morire come i cani Ancora di più Ancora Ma guarda Che non mi prende il checkpoint Ciao Abrio È stato bello Ragazzi non mi prendi il checkpoint Round perdente Ho vinto il Ho potuto constatare Questo gioco è pieno di bug Ma non è vero Non so bug Ma che dice Sono Sono Come dice Sono blag Sono bug Bug spencer Sono blag Ma sono Fusione tra bug e lag Ma sono questi che possiamo fare E questi qua Sono i rep I doppi Che tra l'altro Alessandro Che tra l'altro Alessandro Praticamente È come È il mio È il mio fratello Praticamente Cioè Non di sangue La tua ma Però Oh ma guarda Questo qui Quella macchina rossa Oh ma ha rotto Guarda là Oh ecco Ma perché state rompendo le palle tutte e due Attenzione micidiale Numero Si inserisce all'interno Occhio È Michael Schumacher Io prendo la scia Prendo la scia Prendi la scia Attenzione micidiale Lui è sempre lui Ancora di nuovo Numero Numero Lo dribbla Scusa bro Aspetta che mi allargo Aspetta che si allarga No Sempre qua Fiannaggia La puttana Eva Sempre qui Vado a sbagliare Sempre lì Vado a sbagliare Comunque È inutile È inutile Che fate tutti I prestigio Rigitatori Perché sono più bravo Di voi Oh ma guarda Questo questo Moletto Si Un saluto A tutti i molettisti Che guidano moletti Grandi Che Sono sempre In mezzo alla strada Sono dei moletti Ok Comunque Guarda questo Guarda questo Beh ilu come rallenta Dai Assurdo Io fa per forza Se no qua impacchio Crapetto Sempre qua Eh Oh dove sono Astardo Oh elevati Ho preso Ho preso Non ci credo No ma non mi ha preso il checkpoint Ma stiamo scherzando Voglio Ma davvero Stiamo facendo Cioè ma tu ti rendi come E gira Che cazzo aspetti Devo prendere l'h Perché se no Esplode No ma potevi tagliare Cioè devo risolvere Dove ritornare Di nuovo indietro Eh vabbè Ma perché non mi piglio Il checkpoint Dov'è il checkpoint Cioè ma ti rendi conto Il checkpoint Comunque abbiamo 21 volte l'uno Sì sì Eh siamo pari Quindi dobbiamo fare lo spareggio Non mi appariva il checkpoint 2 points Non mi appariva E poi scoperta Ma dico Dobbiamo fare lo spareggio Sì Vai Chi fa questa vince Un saluto A Deonora E anche a Katia Un saluto A Francesco Trentalance Che si mangia la pittacchina Quello lì è cosa Allora è Francesco È Franco Stavolta Minchia Che si è bloccato Oh come faccio Voglio Mi direi che Dobbiamo cacciare Dalle scatole Questa qui Che mi butta la macchina Addosso Sì ma infatti Ha rotto un po' Le palle Io mando Un saluto Mando un saluto Alla pizzeria Alla pizzeria La pizzeria La russica Su corso Non mi strano Che fa soltanto Pizza Margherita Ce l'ha solo Pizza Margherita Ah bastardo Cosa lorda Fitusa No raga Ma se n'è andato Se n'è andato Se n'è andato Bastardo Ha solto pure Dalla pista Ma guarda Ma guarda Che è stato Comunque ha rotto Proprio le palle In un modo Impressionante Cioè non è capito Che non si vince Così a questo Cazzo di gioco Devi morire Figlio di puttana E mo ce l'ho Con te Aspetta Aspetta che mo Te lo dico io Fermo Tanto sono vivo Ancora Buttalo fuori Ti sono dietro Buttalo fuori Eh la parola Mi sa che Sì ma Praticamente Se vince lui Abbiamo vinto Una pista all'uno Dobbiamo fare Noo Sbaggiavi Mannaggia la puttana Ah tu le segui da lui Ti ha fatto sbagliare a lui Guarda il bastardo Ma mi viene addosso Sì Ma io il checkpoint Dove cazzo ce l'ho Ma non ce l'ho Ciccio il checkpoint Io Maledizione Eh pure a me La stessa cosa È dietro Devi guardare là Maledizione Maledizione Aspetta Eh È grato Oh eh Niente È così È andata a finire così È andata a finire così Dai via Bastato Ok caprettino Ha vinto la partita Dai Eh sì Mi sa proprio di sì L'importante è che non ha vinto Quello stronzo Occhio a non scivolare Scusa Fai vincere lui Così facciamo la bella No Lui ha perso Ha perso Ed è un coglionazzo È morto Così doveva essere Ma là fuori c'è la mia macchina A poco Ma questo è comunque impossibile Da portare a termine Ma ti dirò Secondo me Sì Minchia 18.320 No ragazzi 41.000 19.000 1.560 Oh 1.560 Abbiamo preso A cacchitino Quelli del Ghetto Hanno vinto quelli del Ghetto Quelli del Gatto Un saluto a tutti quelli che stanno proteggendo Schweppes In questo momento Grazie di esistere SZ Malla Ah ragazzi Sapete cos'è il Ghetto in Puglia Il Gatto Il Gatto Bravi Come sei stupido guarda Mamma mia come sei stupido Io veramente guarda Guarda Sai che ci pensavo pomeriggio Mi domandavo Ma come cazzo fa ad essere stupido così Eppure Ragazzi L'ignoranza è un'arte che va Va coltivata E tu lo fai molto bene Ci devi nascere proprio Sì devi essere portato geneticamente E tu voi sei nato torto E morirei testa Ma questa Questa Sì dai Questa qua Sì sì Quello che è pure Z Smalla Allora sappiate che vi farò un culo alluginante ora Giusto per farvi pagare quella di apri Ah ok No no Voi non ci credete Ma è così eh Da mangiare i carnifaggi Carne di Un saluto a tutti i nostri spettatori A chi non ci segue Salutateci chi non ci segue Mettiamo sempre Likes Pop of the pop Mettete un likes Commentaxe C'era una volta In una città calabrese No Quello è Alex Quello è Alex Britti Alex ma Un saluto ad Alex Britti Che ci ha dedicato la canzone La mucca La mucca nel sinello e il bue Giustamente Emanuele è il bue E ci c'è l'assinello E io sono la mucca Chi è che è la mucca? Che in India è un animale sacro Ma tu sei una Però fortunatamente qua siamo in Italia Che è un animale insomma Che si mangia Carne di mucca La capra Fondamentalmente La crappa La crappa No la caffa La crappa Un saluto a Francesco da Cosenza Capretto selvaggio Capretto wild Capretto selvaggio A Gennaro da Napoli E a Sofia da Palermo Ah Sofia Loren Un saluto Un saluto Ok Sofia da Palermo Sofia Loren non è di Palermo Sofia Loren sì No non è di Palermo Il cazzo dice Sofia Loren è di La? Di Loren Di Loren Voleva ringraziare lo sponsor Oddio Ma perché ste macchine di cacca? Ma perché io sono partito prima di tutti Voi sicuramente mi venete addosso E mi rompete le palle Chi è? No minchia sta pista no Di notte non si capisce un cazzo C'è pieno di luci Porca puttana Non posso ne scendere ne salire Ne scendere ne salire Chi è questo? Raga adesso c'è questo qui Che mi rompe È caprettino tuo Ma sempre tu sei davanti Ma come è cazzo Ah ma c'è il nos lui c'ha Ma quale nos? Sì c'è il nos Come il nos? Come si mette? No Ho saltato il checkpoint Hai fatto benissimo Gira Ma non mi partiva la macchina ragazzi Ma due se ne sono andate E chi c'ho dietro di me? Capretto Capretto c'ho Basta Dai lasciami stare però No 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 Non c'è toccato Eh no non mi devi andare a fare fuori stare Devi fare un'onesto Sono stato buono Dai Sono buono Eh no non sei buono Non è vero un cazzo Sono buonissimo Guarda Non ti tocco Non mi toccare Che mamma non vuole Mi prende soltanto la tua scia Vedi? Bastardo maledetto Cosa brutta lord Guarda Guarda che curvone Eh che tu la sai la strada Io no Guarda il bastardo Come si sbiscia Nella biscia Tante volte quanto l'hai fatta tu L'ho fatta stavista Attenzione Trampolino Non si arrende Non si arrende Micidiale Non si arrende Lo segue Lo segue Lo calcagna Il matrimonio Il matrimonio c'era Giovanni Chirico Che da picco Mi scrive Che ha fatto il cricket No non mori No il checkpoint Della pipitola Mannaggia la miseria Checky point Hai sbagliato Non hai preso il checky point Il checky point Non l'ho preso Mannaggia la puttana Un saluto a tutti quelli Che non prendono i checky point Un abbraccio in particolare Al nostro sponsor Patatine cric crac Guarda come sono bravo Che guida pulita Guarda guarda Un saluto a salumificio Mena Che da anni produce salumi Un saluto a Ottica Cantafio E un saluto particolare a Wan Di Bim Bum Bam Ah Wan Si ci segue ogni sera Quello di Capizzaia Ma Wan Quello di Bim Bum Bam Allora non fate nomi Che qua Domani mi trovo un bordello sotto casa Quello ero io Quello era la mia macchina Un saluto a tutti quelli Che non ci conoscono Dai cazzo Dai Dai Ho finito Ho finito Eh dai Che palle Dobbiamo sempre aspettare te Dai Maledetto Dai Ho finito Ho finito Ho finito Questo ho finito Ho finito Ho finito Ho finito Ho finito Ho finito Girati Girati Un saluto a Pietro Pietro Che torna sempre indietro Ogni minestra Ma io sapevo che era Pietrosino Vabbè Pietrosino che poi in italiano sarebbe Giustamente Pietro Pietrino Ma Petrosino è quello Che è deciso Che non sa se fare la cosa o no Per chi non lo sapesse In italiano Non tatteggiare Non tatteggiare Testa di cazzo Non tatteggiare Quello che ne apprezzamolo Si prezzamolo Quello apprezzamolo Ogni minestra Petrosino 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 è Presamo In italiano Un saluto a Bruno A Bruno Schillaci E il figlio di Totò Il figlio di Totò Schillaci Qua non ce n'è Dobbiamo tornare indietro E andare a fare Un'altra cosa Facciamo un'altra Una gara Ma se facessimo una gara stante Aggiorni Una gara Stante No Raga Io voglio fare la missione Me la voglio togliere in mezzo Le palle E ma non c'è Simone E ho capito Ma un altro non lo troviamo Ma Simone Che deve fare Simone Che deve fare Dov'è Lavoro Ha mal di testa Ah ma di testa Ah ma siete usciti Mi avete lasciato da solo E ma Scusa Ma se ti abbiamo detto Che non c'erano iper 3 Che cazzo dovevamo fare E adesso come si esce Ok Devi spegnere il computer Per uscire Se spengo e riaccendo Devi aprire la porta di casa E uscire fuori Per uscire Esci fuori di casa Apro il cancello Esci fuori per favore Un saluto a tutti quelli Che Siamo come noi A tutti quelli che Sono come noi In un mondo che C'era una volta C'era una volta Un caricamento In corso Sì infatti Pure me sta facendo caricamento Ma quindi Che cosa facciamo Facciamo La mia Vogliamo fare La preparazione Dai Facciamo No la preparazione Dobbiamo toglierci Quella cazzo di missione Sì la preparazione Eh la preparazione Sfida iniziata Percorri la distanza maggiore Volando basso E che cazzo vuol dire Ah con l'aerio Oh ma hai capito Che mi ha detto questo Sì siamo in questa sessione E tu invece Io no Mi facci cazzo i miei Non mi piace Me ne sono in una sessione Tutta mia Non mi piace E la magagna E vieni con No E scosto Vieni con No Ma siete brutti C'è qualcosa C'è niente Ma manda l'invito Dai ciccio Fai la missione E mandalo Inviso Sì è un po' di pazienza Che mi sono appena Sì è la pazienza E l'ultima a morire Stavo andando Sono da casa A prenderla La missione Ma scusami Dove cazzo Lo prendo l'aereo Qua non c'è niente Ma non è che lì Sono assegnati sulla mappa Sono assegnati sulla mappa Ah ok Oh ha cominciato a chiamarmi Ciao Teo Ciao Un saluto a Teo Mammucari Che mi segue su Instagram Ma non ce n'è aerei qua Dai Forse non buca Che c'è niente Non mi ha invitato Nella sua crew Quindi L'unione delle torte Che c'è No Ma non c'è Non c'è Dovevo creare una crew E chiamarla Questo Giovanni delle Basette E quant'è sta E invece da Capretto Un saluto ai ragazzi Del Muretto Che ci chiamano sempre E ci ringraziano Un saluto ai ragazzi Del Razionale Che ci seguono Qui sono la portiera Attenzione Vigiliare Allora Io sento un aereo Ma non c'è Oh Lenny Guarda Lester Come cazzo ti chiami tu Ero tolepang Ero tolepang Ero tolepang Questa banda Vediamo qui Un cazzo Ah ma guarda C'è l'elicotterre Ok andiamo Io Comincio a fare la preparazione Poi siete liberi Sì Ma come sono figo Sembro sprint Sono figo Sono bello Sono figlio di Cermello Poi figlio di Marcello Allora Andiamo Comunque sono tre preparazioni Da fare Ancora No Vicino al terreno Non sul terreno Ma chi è? Ma è possibile Che uno lo trova sempre In mezzo alle pali Io non ne sopporto più Aspetta Vicino a quale terreno Cioè non capisco Tentativo attuale Zero metri Carabino speciale Ma come volo Vicino Ma secondo me Con l'elicotterre Facciamo l'aperto I miei amici Amici che giocano GTA Ragazzi Sì Dimmi Dai Sentite lungi il pulsante Aspetta Aspetta Perché io sono Quello di colt Dai Ti ricevo Ti ricevo Forte e chiaro Forte e chiaro Chiara e forte Ok Non ci crede più Tutti Tutti Nella stessa Attuale Se c'è qualcuno Che ci viene Qualcuno di buon cuore Che ci darà una mano Con la preparazione Ma Vedi perché io dico Di fare tutti Perché di solito La gente Non accetta Di fare la preparazione Perché la getta vuole La gente vuole Il piatto sotto il musano Invece c'è questo che ha Certo Covid Covid Nick Siamo in tema Con il Covid Giustamente Questo sarà uno Che magari È come noi Vedi che ha accettato Porca miseria Ragazzi Io non ci vado vicino a lui Aspetta Ma se questo cosi Chiama Covid Nick Un saluto a Perché mi state antipatici Perché mi state antipatici Io non vi sopporto Non cominciamo Per favore Non cominciamo Dai Accetto Crapetto Crapetto Ti ha inviato Una richiesta di amicizia Su LinkedIn E non mangio Selezionare Quest'attività Sì Ti stavo dicendo Come non qua La gente Di solito Non entra Nelle preparazioni Perché Entra soltanto Nei colpi Perché vuole Il piatto sotto il muso Capito Vuole soltanto un tisano Ecco perché Io preferisco Farla Con la gente Ma scusa Sta cazzo di preparazione Quanto persone Stanno entrando Eh mancano Tre preparazioni Ancora Ma davvero Ma scusa Ieri noi Eravamo quattro Eramo Eravamo Vicino a te Eramo Vicino a te Eramo sì Ieri eravamo quattro Un saluto Un saluto a tutta Padova E a chi lavora Nell'acqua sapone Di Pavia Un saluto A tutta quanta La Parmalat Soprattutto Per il latte Grazie A chi c'è inoltre Io non le ho compri La Parmalat Cazzo dici Un saluto Alla bestia Da parte Della bella Un saluto A pure Invito automatico Ma no Fai così Guarda Invito Invito Tutta Invito automatico Fai quello che ho fatto io Mi ricorda pure poi Della sessione attuale Eh sì È un corognoso Sta cosa È un tantinello Alla fine Sono soldini Cazzarò Non è che uno Alla fine Alla fine Sono soldi Mi raccomando Mi piace Condividi Commenta Guarda Minchia Devo andare in palestra Io non voglio Che di apro la palestra L'unica L'unica Veramente A tutte quante Che cosa Ricordiamo che Bruno Cerca ragazza Cerca fidanzata Commentate No 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 Sono felicemente Sono felicemente single Adesso Ragazze pure io Io sono Saluto a tutte le ragazze Che vogliono Bruno O Ciccio Vi comprendo Vi stimolo E Vi compatisco Ragazzi Qua non arriva nessuno Ma di ragazze Dice di utenti No Di tutte e due Un saluto All'ex Sir Al mio lavoro Sperando che non mi licenzino Visto il covid Di 19 Oh Zero Zero sides Stai entrando No frost No frost No frost Zero sides Frigorifero No frost Con gelaccio Questo livello Come si è senza joy Chi è che è senza joy No ti spiego Ti spiego Perché il mio joypad Lo riconosce come mouse Per te è complicato Sobbio come te il tuo No Il mio computer È differente Come la mia banca Come la mia banca Allora Attuale Sport Buffalo Turismo R Via Quanto persone siamo Zopping Chopper Quattro Otto Quattro Quattro Diviso due Per tre Ma che sta a capire Meno due Oh ma lo sai che Giccio ci assomiglia Al suo personaggio E infatti ho cercato Diciamo che È la metà Di quanto sono io Forse Pure io Tra l'altro è per la barba Ma Non ci siamo Un saluto a Leonardo Da parte di Da Vinci Dov'è la macchina? La macchina mia è di là Ma perché? No quella è la mia G Ah G È la mia quella No io non sono Io sono Questa è la mia Quindi ognuno per cazzi suoi Era giusto No Ma che cazzo ho fatto Sì Vabbè sì È la stessa cosa Meno poi ho fatti suoi Ma ti levi in mezzo alle palline Io comunque avete inventato Tutta la stessa macchina Vedi È la macchina gratuita È capito È gratis Ma quindi dove dobbiamo Ma io vado alla barba No ma tutte Alla stessa parte Dobbiamo andare Tutte alla stessa parte Dobbiamo andare Ah ok Andiamo E non ho capito Perché non siamo andati Con una macchina sola Scusi Perché a noi ci piace Ci piace viaggiare No Per risparmiare qualche goccia Di benzina Di benzina Eh sì Perché sono tutte a benzina No è abbassata la benzina Un saluto alla Pirelli Che ci ha fornito i copertoni Per questo video Un saluto all'ANAS Che ci fanno trovare La strada Sempre in perfetta condizione Un saluto Da parte del Salerno Reggio Calabria E la strada del sole Autostrada del sole Un saluto a Bruno Che ci stava lasciando la vita Vabbè Mi sono rotto il cazzo Di salutare Comunque Guarda lui Scusami Non t'ho visto Te lo giuro Non t'ho visto Parola che non t'ho visto Non t'ho visto Veramente In un modo Ok Scusami Siamo andando Il caffrin sangente Sulla moto Minchia Sto andando Come una Una scheggia Proprio Di quelle schegge Di quelle scheggiose Di qua Minchia Numero Attenzione Levate In altra volta Quello con la moto Potevo far cadere Ho messo la visuale Quella Quella sportiva La sportiva Attenzione Sono Sono Oh minchia Sono un pilota Ecco qua L'ultima parola famosa Ok Venite che vi aspetto Dai Che bello Quando mi bagno Così nell'acqua Che bello Quando mi bagno Così nell'acqua No Minchia Ho preso un camion Ho preso un camion Ho spaccato tutto Eh di nuovo Oh ma te ne vai In mezzo alle palle Devo andare da qua Io mi vedi Eh va bene Dai Siamo qua sotto Aspetta Ma qua sta andando Su una strada Ah no Posso andare da qua Posso Ah da qua Scendiamo a torre lupo Andiamo a mare Vedi Sì sì Andiamo al parisola sub Sali bro Un saluto Al parisola sub Alla gente che ci va Un saluto a Lido Fabiano Saluto a professore Ma perché le vostre macchine Sono più buone Eh dai Sali Aspetta Non ti chiedi perché Ci sono soltanto tre macchine Scusa Scusa La mia era distrutta Perché la vostra Doveva rimanere giusta Siediti Eh dai mi siedi Ma tu lo sai Che ti sei addebitato Sul conto tre macchine No è vero un cazzo Perché non vi devo una lira Ma non l'avevamo finita Sta missione Comunque guarda Io non so in che mondo vivi Tu L'avevamo fatta ieri sera Ma soltanto che il mio joypad D'aveva deciso di non farlo Ah ti ha fatto schianzare È vero Sì Un saluto a tutti i bimbi Che non ci stanno guardando Un saluto a chi non saluto Non lo vuole Oh ma io mi metterei A testare quasi Vite squadra Uno Ah ci siamo Dimenticati di salutare Il nostro Comunque io Io non so voi Ma questo qua Parla 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 Ma alla fine Non dice niente Ah Salice Felice è attivo Ma non dice niente Salice È concentrato sul nollo Felice Fin quanto vinco Non parlo Ok allora Ok ho finito ragazzi Allora ci puoi dare Ci puoi dare supporto Supporto morale Ragazzi A breve Cioè Tra due secondi e mezzo Faremo ancora live su lol No scherzo Sì vabbè ciao Però faremo anche live Allora ragazzi Domani Domani cercherò di portare Una live di minecraft Per chi Per chi ci segue Per chi vuole seguire Quel genere di gioco Riuscirò a portare Un po' di survival In questo canale Molto probabilmente Domani non ci sono io Eh vabbè magari Faccio io qualcosa Con la super Predizione Di compare Bikerskri Sì sì Streamerò io In cosa In 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 differita In differita In differita In differita Streaming Vabbè ragazzi Io per il momento Vi abbandono Perché Va fra la soppa di latte Ricordiamo che Dobbiamo salutare anche Felice che fa la soppa di latte Una buonissima ragazzi Che cazzo Perché Lui come la fa Integrali Perché Perché si deve mantenere Quindi Integrali Però è sempre Suppa C'è Suppa Di latte Ma tu ce l'hai Pupazzo di nero C'è Pupazzo di nero Vi seguo Vi seguo il live Dai Ciao ragazzi Ciao Perché si è buttato Il mio Dell'altra parte Perché Non lo so Anche il mio Ma io Ok Dove ti sei attaccato Allora Mi serve Che cazzo Prendo Mi serve questo Ah ma state salendo Già Giustamente Uno è andato Attenzione Micidiale Mi metto qui Devi morire Anche tu Devi morire Anche tu Potevi morire E anche tu Ah ma quello Può scoppiare Ok Vedete comunque Questo Sto ragazzuolo È abbastanza Pratico Sì sì Non te l'immagini Io vado Da sopra Ah ma non c'è Nenun cazzo Nessuno Questo Che sta Cadendo Oddio ma io Non vedo Nessuno Dai Mamma mia Quando si Inceppa Comunque Grandissimo Da qua Da qua Fariamo da qua Oh c'è una punta Su quell'aereo Che poco poco Ma sempre vicino a me Se tu Ma puoi fare Andiamo A posto Copritemi le spalle Copritemi le spalle Siamo Sì ma siamo Troppi Oh ma mi stanno Sparando Cazzo Vedi dov'era Lui E chi spara Da qua Stanno sparando Morto Ok Non ci finiscono No c'è un altro Fermo Fermo C'è un altro Uno qua Uno qua Ok Possiamo andare Ci abbiamo fatto Gli aerei Ora Vero Sì Fottere Voce del verbo Fottere Proprio Minchia che punta Oh che Si è caduta Da qua Su cazzo Ma chi è Che mi sta Sparando Cazzo Ma mi stanno Sparando Dai Dai Veloce Mamma mia Ma cazzo Mi ha fatto Morire Ma che Paglio Minchia dove Mi ha sponato A casa Di Di Paverna C'è dai Ma è vicino Minchia Stanno arrivando pure Non morire Non morire Mi raccomando Ma non ho capito Che cazzo Mi sta sparando Tra l'altro Guarda Guarda Basta Sono assai Per me Sono assai Io non ne ho Energia Dai 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 Minchia quanto cazzo Ci stai mettendo Per metterti Su sto cazzo D'aereo Occi ma non mi sale Come non ti sale Non mi sale sull'aereo Premi il triangolo Eh quello sto facendo Ok andato Meno male è andata benissimo Mamma mia Oh vaffanculo Non è morto Non è morto È morto Che palla Che è morto Che è morto Che è successo Ah non lo so Zero size Porca miseria Zero size è morto Vabbè non fa niente Non vi preoccupate Cioè io ho fatto un bordello Per riuscire a non morire Vabbè dai Dai recuperiamo Forza Di nuovo Di nuovo Di nuovo Forza e coraggio Mi raccomando Like E condividete ragazzi Io ve lo ricordo Perché tante volte Piano 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 sto crescendo Come Come rango Dai Già rango 40 Va bene Pure Bruno Bruno è Bruno è cresciuto come Orango Come ragno Come orango Come orangotang Vabbè meno male Almeno partiamo da far Sopra direttamente Un saluto a tutti Quelli della playstation Che sono riusciti A portarci un joypad Che fa Veramente cacare Minchia c'è quel minuto Ah ma Praticamente ripartiamo Dagli aerei Non dobbiamo uccidere Nestuno Vieni qua 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 Fantastico Vici di Haga Ok ci siamo Andiamo a prenderli Andiamo agli a fare Sto volando Sulla città Sullo Santos Minchia Questo è l'isbundo Veramente l'isbundo Non sto scherzando Ma perché Sto aereo Se ne va per cazzo Forse c'ha le gomme lisce Elimina i caccia Per quello che sto per fare Facciamo un lì Partiamo proprio dai tempi Dove cazzo sono? Ok Presto Eccolo lì L'abbiamo trovato Che dove sei Bastardo Oh mi hanno preso Mi hanno preso Cacchio Come hanno fatto A prenderti Non lo so Però ancora mi funziona Che cosa Spero che non mi esploda Mi esce fuoco Ah ma minchia Ce ne sono tre qua Cazzo Ma quando cazzo Li prendo sti aerei? Allora Quando Quando vi Sentite che vi hanno agganciato Girate attorno Ma non hai capito Io sto andando a presto A tre aerei Ma non li vedo Eccolo Oddio Non so se mi si è spento Il caccio No Però mi esce fuoco Sei morto Ok andiamo Andiamo Vedete vicino a me Guardate come sono Dove sei? Ma scusa Come cazzo ho fatto Io sono partito prima E gli aerei Non li ho visti Mi vedi? No Sei là Si sta girando Per cazzo Mi vedete Ma se faccio bordello In città No no Non fare bordello In niente Potremmo arrivare là Va bene Arriviamo E poi facciamo bordello Dove vuoi Sulla montagna Ho sparato Che figata Mi state vedendo Eh si Si Sei bellissimo Io non vedo dove sei Avanti Sono prima Ah avanti avanti sei Ti prendo a fuoco Avanti vado Però ancora mi funziona Ti funziona il naso Il caccio Ma aspetti che ora Qua La pista era di là Quindi mi devo atterrare Aspetti che ora Qua la pista era di là Figata Minchia dove sta la pista Ma io dove cazzo Era andato Io voglio sparare Qui non è Hollywood Ciao mamma Guarda quanto mi riletto Guarda se riesco A raddrizzare Ah eccola là La pista Sai che non mi ricordo Da quale parte Si atterrava Da qua La borsa Cosa Quindi devo girare Qua è un cazzo Di bordello Ora Non me la sono proprio Regolate per un cazzo Hai visto che il mio caccia Prende a fuoco Non me ne frega niente Il tuo caccia L'importante è che il mio Si è messo bene Dove parcheggio? Io Può stare anche là L'importante è che Parpeggio io dentro Minchia che figata Da migliorare un pochino Il parcheggio Che lui già lo sta smontando Che sta smontando Sta prendendo Le cose I reattori Questa è una batteria Una batteria per la macchina Partendo la macchina Per la BMW Eh che cazzo fai Cretino Vedi che lo stai facendo cadere Stupido Guarda sto cretino Madonna Questo qua Raga Io Veramente Ha cominciato a rompermi Cioè Capito Capito Cosa Cosa Minchia Stava proprio antipatico Comunque Lo sai che sembri Tipo Goku Pare Non lo so Sembri Go hanno Quando si incazza Un saluto a Giussi Che ha messo Mi piace Alla mia storia Alla tua storia Ha messo mi piace Sì Mi piace la storia Non lo so Però mi è apparso Giussi Ha messo mi piace Alla tua storia Su Facebook Vuoi fare Sì Oh ecco Oddio Bene bene Abbiamo fatto anche Questo colpo Allora Scaricatevi tutti Questa applicazione Che vi dico adesso Mi faccio i cazzi miei Mi faccio i cazzi miei Hai pigli per il culo No Dico Oh mi è venuta voglia di un paninazzo con l'hamburger Con? L'hamburger Belle Con il bacon Con il bacon Ma il bacon E il bacon Sono la stessa cosa Non credo Il bacon è quello che c'hai tu sotto Cioè all'altezza del villico Io al villico c'è solo il villico E la mancetta Ciccio ma che stiamo facendo qui? La lanuzza del villico Io sto scherzando Vedi che Vedi che in pratica Tu sai come producono il cotone Dalle lanuzze del villico Mamma mia Il villico sarebbe l'ombelico I suoi genitori Vedendolo in questo stato Non gli dicono nulla Mi amano Mamma mia Eh sì Ti compatiscono poverino Perché tu non sei diverso Ma perché sta cazzo di macchina È sempre chiusa Ma la mia dov'è? Ma io la macchina Tu vuoi fare la macchina? Ah già Perché io Aspetta che me ne vengo con te bro E levati Ma Ha chiuso proprio Come si apre? Dà meno interazione Ma la fanculo eh E io come cazzo vengo ora? Io mi aspetto qua Ma ti arrangi Perché hai fatto scoppiare tutte le macchine No non mi arrangi niente Che ho trovato la mia macchina Eppure è buona guarda Che è bene con le bro Minchia Ho trovato il gippone Quello Il track Il track Oh bro Oh tu hai aperto Eh non è aperto È chiuso Come no? È aperto il sportello No Hai messo amici Sì Veicolo Ma ti arrangi Perché io con me non ti faccio venire Dai vieni dai Vieni qua dai Ciccio Entra E non mi entra Occi ma te ne vieni C'era un tantinello lenti Arriveremo dopo domani Perché Bruno mi sta rompendo le palle Secondo me Ahahahah 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 Che Minchia E' spettacolare C'è il guardarello Manco l'ho sentito Guarda Guarda che figata Eh 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 Siamo lenti ma non abbiamo limiti Con questa autovettura Ok mi devo comprare una macchina così Modificata Guarda che figata Guarda Ti rendi conto? Io amo ste macchine Eh no stavolta l'ho esagerato Ok Lester mi ha chiamato Vado a casa direttamente e vi invito E che cazzo vuole Lester? Per il colpo Per finire il colpo Qui non è Hollywood Vaffanculo Ma che me lo dici e brusso cosa vuole? E tu ah cazzo Dai sparisci Ma tu non sei con me ciccio Ah? Ciccio No no sono uscito Ma come cazzo hai fatto uscire? Perché Lester mi ha inviato L'ha accolto Ok allora invita Mi è venuta che vengo da te Appunto Infatti li sto invitando Ok accettato Un saluto a tutti quelli Che mi vogliono bene Siete mitici Vi stimo Ta 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 Ma non lo voglio comprare Iiotte Ci compreiamo Iiotte Una figata Io vorrei capire se posso passare Il mio personaggio della play Sul computer ma non so che sarà impossibile Io dovevo andare alla ruota della fortuna Oh già davvero Minchia bro Una volta nella tua vita hai fatto qualcosa di buono Cioè ti rendi conto Basta vedere che la creatura È più intelligente del creatore Hai detto una cazzata ma a livello A livelli colossali Ti rimonto e immagino la somiglianza di un frullatore Ma hai visto che questo fatto Ma hai visto che questo Zero Sides È il figlio di Babbo Natale Ok Elegante No elegante no Minchia questo qua combattimento pesante Voglio qua full black Total black via E la maschera Mamma mia Aspetta Spettacolare Sì sì facciamo così Bello bello mi piace Mi piace Mi piace Mi sta piacendo Poi passare Mi sta piacendo Tutti attivi Belli Questo qua gioca a cavallo Ma chi è? Bruno e l'auto Bruno? E calorie zero Zero frost Zero calcare Ma di chi è sta macchina qua? Non ho mai capito Quale? Quella mia? Eh no la prendo io dai Per un attimo fra Ci sei? Lo sportello Quale sportello? Minchia è una figata sta macchina La lanciata del 30 Mi si è bloccato il gioco Mi si è bloccato Mi si è bloccata La cosa del coso Allora dove cazzo sta? Lo sto tagliando? Così arriviamo prima? Mi si è bloccata la macchina Ma non me ne frega niente Dai a me a piedi Tanto piacere Ti piace la mia macchina da rally? Faffanculo È uscita o cosa? Chi è? Chi è uscita? Eh no Può essere Questa è la missione fallita Vabbè siamo qua Andiamo E' appena la macchina AIA Guarda come me la sta rovinando sta macchina Vabbè dai Da rally Cazzo vuoi? Mica potei pretendere che C'è Ah Aaa C'è Valkryia Adel Tarko Traffi C'è Lecola Ritmp C'è C'è S Tarko C'è C'è Ma C'è C'è S C'è 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 era per girare ah si si l'ho notato sto pensando a Bruno no lo stavo immaginando davvero che lui nella realtà facesse una cosa del genere mi si è bloccata la macchina non mi avevo inoltre comunque domani il nuovo microfono non so come si sente la live in questo momento ma cerchiamo di evitare di diventare un po' più professionali mi si stanno aggrezzando le carri eh si sto andando un secondo è tutto morbido eh vabbè ma questo è perché ci dobbiamo differenziare dagli altri ok vai 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 oh raga ma a me mi ha cacciato il colpo cazzo ok fermati qua fermati qua fermati qua che ne ammazzano se no ah ma di te questo è che a noi si pensa che sono ubriaco chi è che mi stanno sparando dove sei il laser oh cazzo ma c'è l'elicottero sopra di me ma se io ma scusa ma dov'è quel cazzo di cosa è lì perca una pesta allora mi posso buttare al mare ok ho bisogno di dai 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 no no non c'ho giù potenti proiettili cazzo io me la sto facendo in solitaria praticamente ok come salgo cazzo di ora non posso salire cazzo andiamo ma dove sei io no è sto pezzente che mi sta sparando devo mangiare uno snack uno snack uno snacks non ce no ragazzi siamo fottuti vabbè non hai gli snacks non mi dica se hai bevuto una bottiglia di beer di coca cola ma da dove cazzo salgo porca la puttana raggiungetemi raggiungetemi dai io me ne sono per cazzo i miei me ne sono scappato proprio pensavo di fare una cosa intelligente io sto crepando io pensavo di fare una cosa intelligente eccolo qua stiamo vivendo dove siete? no no stardo micidiale no ce l'avevo fatta porco giù ma perché sei morto? ce l'avevo fatta avevo preso l'elicottero ma avevamo due vite come cazzo? ma non devi prenderlo subito l'elicottero ma che devo fare? e devi aspettare perché sennò ti ammazzano e te l'avevo ammazzata tutti a quello non l'ho visto uno non era rimasto non l'ho visto infatti ho preso un sacco di ma perché dobbiamo salire tutti sull'elicottero dopo? e io ti venivo a prendere mica no ma se siamo qua in mezzo aspetta però perché mi stai trattando male? io non ti ho fatto niente no 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 mi stai trattando male vabbè ti chiedo scusa con un bacino commentate e condividete perché ci ciò mi ha attrazzato male scostumato che non sei altro non si dica queste cose sì ma mo quelli tu che mi secco non siamo già arrivati che devi dare eh vabbè scusa pure per parcheggiare ma che immagina da me si piglia da The Udekaton che maca allora andiamo a sparare andiamo a comandare ah 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 eh aspetta ma io come faccio ad entrare qua? e già io lo trovo a volte andiamo zampa vaffanculo devi morire bastardo perché stai andando da qui oh che cazzo fai ma vabbè lui è morto vabbè andiamo per cazzino nostro io abbatto l'alicottero vaffanculo minca ma chi ha sparato cioè io stavo lanciando una granata t'ho presa a te in testa non ci voglio credere ma perché dovevi lanciare le granate oh aspetta ciccio spostati spostati l'ho preso l'ho preso ma non fate esplodere tutto come se fosse capodanno a Napoli andiamo non è capodanno un saluto a Napoli e ai napoletani un saluto a Napoli che ci segue calorosamente grandi anzi dei fantastici ma facciamo ragazzi scriveteci con un insulto in Napoletano vieni vieni lascia stare i miei amici chi è che sta sparando come non ci fosse vieni vieni ma che al mondo è questa impalcatura alla cazzo che dita non è morto attenzione vieni 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 pure te cazzo occhio a sti fiosi che esplodono si si ho visto ma che cazzo è che mi sta sparando cazzo ma sto per morire ma c'è qualcuno qua sotto oddio ma io sento qualcuno mi fai guidare mi fai guidare mi fai guidare oh ragazzi stai avendo avicotteri sali sale bro da che ora spari ma gli avicotteri ma questo sa guidare io ho paura di lui ma sto vedendo che sa quello che fa si si infatti ha rassiato momo la gru lui si sta riportando no sono davanti a te non riveli sul radar si si riveli what's american boy sparato dagli alcottoli ammuyoto al asila ammarrostuto ti vado voi come fresh and clean ma io praticamente davanti non posso fare un cazzo no tu non puoi fare niente davanti eh vabbè però vi guardo che bellezza dov'è l'altro non lo vale non lo vale non so come siete bravi cazzo ma vabbè l'altro ricordo vai vai cazzo non lo posso prendere qua dai che ne mancano due raga dai se questo smette di muoversi magari eh minchia non muore oh mi sta facendo girare la testa eh è già giovane è giovane è morto dai un altro un altro un altro se tu ti ci metti frontale no non lo possiamo sparare si si lo può sparare frontale come no frontale si eh si ma fino a un certo punto vedi poi quelli da di là non lo può sparare vedi che ce n'è una a destra eh l'ha visto minchia addosso che sta avvenendo mamma mia capo è morto è morto è morto è andato ci siamo un altro oh stelle cotto è una figata praticamente colpi infinite praticamente certo è bastardo se n'è andato vedi che sta uscendo la fuma dal nostro se n'è andato dai se n'è andato ok ok ci siamo ragazzone si ma questo vola troppo rasotergo mamma mia mamma mia mamma mia come lo sto vedendo guarda proprio no no sa volare sa volare si sa volare è superman sa volare è superman come addormentarsi con il rumore dell'elica dell'elicottero devo comprare un elicottero così a una notte riesco a dormire un saluto a Pasqualino mozziconi sicaretta un saluto a Gennaro prezioso non sparare bro dai calati calati minchia che visualazza calati calati ma basta che premi solo e il coso cioè dove cazzo è stata mamma mia fantastico c'è la sape 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 che ne è chissi che se non fico pazza che bella e brizzolate eh se noi abbiamo fatto tutto ma allora questo qua somiglia il meccanico mio un saluto il mio meccanico spero di non spero di non vederlo mai il tuo meccanico capretto non faccio niente argento no cazzo non ho fatto niente ho sparato con la macchina ho guidato con la pistola come no oh sono aumentato di rango ho me sbaglio mo cosa sei mo sono no mo è diventato king kong ora è donkey kong minchia oh 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 ciccio ma hai visto come mi copia le battute perché è un cretino e non sa cosa dire il giorno capito si si mi copia le battute va che testa di cazzo un saluto a un saluto a Bruno che ci segue iscriviti ciao Manuel mi raccomando domani va bene a tue parole Bruno no no domani compro il pittaugne color 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 fantascienza fuzzicone di sigaretta fucsia fucsia color fresh and clean fucsia salutiamo quelli che lavorano a fresh and clean eh da c'è c'è che fumo eh è il non figo ti pensi che è te è te allora andiamo bro guadatoia ok allora cosa dovrebbe ma io stai cazzo di cofio ora dovrebbe essere diciamo dove andiamo metti il coso aspetta che io vengo ok comunque lo possiamo aggiungere la cosa a zero calcare si raggiungo sempre lui allora io io vi raggiungo con la col coso con le lico con vabbè si col che col pensiero no con il trattore sto vedendo col trattore si ok ci vediamo dopo di mattina e non ci lasceremo mai guarda che figata perdere il trattore ma tanto non mi devi invitare tu si e allora io mi faccio un giro col trattore vado ad arare però bro prima di andare a casa passa da qua sono bellissimi col trattore e basta e basta lo bene che abbiamo caffè si andiamo a prenderci il caffè al bar aspetta 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 parcheggio perfetto miocchia prima di comprare le merendie ma perchè ti potevi mettere più avanti no mi spagno che me la rubano adesso non le telecamere mi spagno che me la rubano ci sono le telecamere lì capito allora compriamo che cazzo fai mica ma c'è un elicottero di coso qua aspetta ma c'è un elicottero e voglio questo allora cazzarola ok ma dai che figato sto arrivando ci sono gli MMS dell'MD i PSQS dai muoviti pacchetto di Redwood Pacers ma cosa sono i Peace Warsers i chi? non lo so vieni da Cibio tutti ma 06 ha abbandonato la sessione cavolo dai vieni che oh bro aspetta che mi sto prendendo a prendere io che così facciamo prima guarda non gli è proprio guarda che si proprio io sono sempre un passo davanti agli altri venite venite noi siamo già qua noi avanti venite vieni ma che cosa c'hai scusa? l'elicottero quello militare aspetta che tanto ormai devo mi è arrivato l'invito peccato non venite aspetta che siamo all'armeria ti vuoi venire a fare un giro? ok io sono andato a casa ditemi quando avete fatto così vi invito direttamente ma come sei andato a casa? ti ha mandato il messaggio l'Anna? eh Lester manda il messaggio per continuare la preparazione così io penso che fa tutto il giro ma ne vado guarda questa lavagna capretto wild tutti i platini allora portare il dispositivo è nel primo dei pressi del laboratorio per attivarlo poi durante il ride è una figata sto cosa allucinante questa macchina oh bro bro vedi che sono dietro di te Bruno fermati non sembra la onda tipo quella di Fast and Furious vaffanculo mo' esplori no no vieni sei salito? si ok vabbò dai accettiamo l'invento di ciccio così moriamo io sono già da ciccio che cazzo me ne fottam? mica io ti ho chiesto dove è me ne fottam e voglio è arrivato il momento del Balkan Mixture mi raccomando ragazzi comprate la tabaccheria perché è fantastica oh dobbiamo andare al casino cavolo eh dopo questa ci andiamo dai si ma tanto non vince un cazzo lo so e beh almeno poi le punti esperienze magari c'è a culo con Massimone e vince la macchina mamma mia che è Bruno ma preferisco le punti esperienze guarda no io preferisco la macchina così vado me l'elaboro sai che figata ma l'hai invitato a coso là? è uscita si è uscita dalla sessione però testa di pizza ma eh mo il cavolo mi sa che è mo andiamo a comandare ora vogliamo aspettiamo se non c'è qualcuno ma che vuol dire per niente che c'è chitto l'asa zena tug che sono clan krio krio e tu zena zena è la mia krio ma l'hai creata tu? no è quella che c'avevo sulla play non so perché me la riporto anche qua e pure a me mi dà l'account della play penso perché mi riporta tutto quanto la cosa che in base a quello che ho mi riporto la mia krio si in base a soccanto si crea allora io acquisto le munizioni e il giubbotto anti proiettoli vediamo se qualcuno entra hai visto che adesso Bruno non me lo dà più il mouse mi dà il joypad non te lo dà più? il mouse ora mi dà il joypad è tutto per cazzi suoi dipende tipo se io faccio così mi dà il mouse se poi faccio così mi dà il joypad poi faccio così di nuovo il mouse faccio così joypad mouse joypad joypad ah tipo così perché se muovo il mouse mi dà il mouse a me invece no non è vero manca a me il problema è tu non è il nostro no siete voi che siete strambi io funziono bene no è molto reattivo no hai ragione quando hai ragione ragazzi qua facciamo notte ci abbiamo incossato in inglese è Fahrenheit minchia sono arrivato al 18 fantastico sono arrivato al 18 a livello 40 eh grazie allora noi stiamo facendo fare i colpi a Ciccio noi tipo siamo dietro di mila anni vabbè ma Ciccio questi colpi sicuramente l'ha già fatto ma io questo li ho fatti avrei fatti diecimila volte questi colpi li conosco a memoria volevo mandare un bacio un bacio grande ai nostri sponsor Philips Sony e e Tertor maным poro questo non lo puoi fare perchè ti bug ti bug ti2020 ti bug c'è ttttt' ttttttttttttttttttttttttttttttttttltttt tttttttl L ma dai ma perché non entra nessuno ma proviamo a invitare qualcun altro tipo che allora ragazzi io allora io faccio così allora ragazzi se state guardando è qualcuno a gta anche sulla play magari anche sulla play non so da pc allora sono le 22 e 59 se per le 23 0 1 ancora non è entrato nessuno andiamo al casino andiamo al casino infatti se facciamo così allora ci facciamo quattro chiacchiere in famiglia come quattro salti di findus comunque cioè giocare a gta con tutti i para i settaggi alti anche in 1080p il computer mi spara un'arietta calda che la fine del mondo mi sta riscaldando tutta la stanza ma vuoi che sia e che c'è un condizionatore ehi c'è il processore figo c'è il processore quello figo mamma mia che paglia ragazzi ma perché non vuole entrare nessuno commentate se volete che compri un 3900 x mettete like se volete che a mano apri il canale ma non è capito a chi ci sta seguendo a chi ci vuole seguire vi ricordo di iscrivervi al canale a chi non ci vuole seguire a chi non ci vuole seguire soprattutto mi raccomando mettete mi piace alla pagina facebook manuel e non diciamo il cognome a parte che la pagina facebook non puoi mettere mi piace mettete segui su instagram e stalkerizzatelo seguitelo per tutta la pagina leader abbandonato il corpo fantastico quale corce andiamo al casino si andiamo al casino si ok andiamo al casino andiamo ma se io entro in garage entro in garage di casa tua ma venga sei a casa sua ma si sei a casa sua ma c'è un occhio nero chi mi ha picchiato bella quella macchina un'altra immagine proprio se volete che streaming 4k commentatelo ora non esagerare in 4k non ce la farei ma ciao bella bella brusale sa bella sei uscita bella stronza perché fai così perché fai così eh non ti voglio solo ma perché scappi vieni qua guarda mi ha fatto male va bene andiamo al casino andiamo andiamo il casino andiamo al casino un saluto a tutti quelli che lavorano ancora al casino ma scusa non era con un rombino dove cazzo è il casino ok c'è la luce del sole negli occhi spada abbassa il parasol attendete no no ma aspetta non cammina nel Gippone fermo qua dammi questa dammi iii c'è il Cayenne fermo qua fermo il Cayenne dai dai vatti dai a mare ci vai domani dai dobbiamo rompere le palle ma che cazzo vuole sto Martin che mi chiama di continuo e gli piace che cazzo gli piace io non lo conosco oh ma c'è nebbia è nebbioso è nebbioso eh si si non rompere scato guardate bravo andiamo accassino a prendere il nostro il nostro sbomero 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 la fortuna puoi trovare anche tu secondo me stiamo perdendo gli iscritti oppure di sentire Bruno cantare perchè? finchia fa schifo come canta ah per colpa di Bruno dici? eh ragazzi ti devo dire una cosa dici dici canto male perchè non voglio fare sapere il mio vero nome che cazzo c'entra questo? che cazzo c'entra? un saluto a chi ci sta seguendo se volete che vi saluto commentate o il mio moderatore come voi scrivete lui mi avverte io mi giro guardo il nome di di che mi sta che mi chiede di salutarlo io lo saluto iscrivetevi di nuovo cosa prende a Bruno no no vestiti ma che vestiti è? ma chissà che cos'è? abbiamo in torredde misti scura che cacchio è? eh c'è il coso qua il negozio dei vestiti puoi vedere che cosa ti ha dato e dove che è? qua dentro nel casinò si aspetta aspetta che poi faccio una cosa non lo posso fare ho preso il mistery che cos'è il mistery? è un mistero seleziona la proprietà per depositarci questo veicolo il 9f ho preso un veicolo oh del perro assolutamente si del peto premio sorpresa obey 9f ma che cazzo è il 9f? ma che mi deve fare il 9f? ma che mi deve fare il 9f? ma vuole te la ci deve essere il camerino e che cazzo fai con la bottiglia? e che cazzo fai con la bottiglia? obey 8f? o no? la obey 9f vediamo 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 che vinco 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 forse obey 8 ho letto male io ragazzi ruota della fortuna ho letto male io sono stato madonna mia e che cazzo fai? dai la macchina la macchina la macchina la macchina la macchina la macchina e le punti di reputazione 7500 è bello è preso rp? sì sì sono arrivato al livello 19 amici amici buono 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 allora mo come di consueto mi vado a fare una bella partita della macchina vediamo vediamo le partite mi sto 5.8 mila ecco magari vinco soldi dai ok Bruno dove sei? qua mi sto giocando la macchina ah adesso dove prenderti i vestiti bro no perchè non le do 10 tiri come al solito vieni e qua qua devi vedere aspetta che ho fatto la puntata massima così due e ho perso tutto fantastico 3 4 dove sono io vieni? niente ho perso tutta la fish porca miseria 5 dove sei? qua dove sono io guarda c'è il camerino lì? 6 6 6 ahhh 7 mo ho sbloccato una cosa tipo degli anni 30 guarda là 8 ma che schifo 9 voglio investire e 10 come si fa 3 ma cazzo non vinco mai oh non vinco mai qualche altro giochino figo fresco e dove sono c'è? qua dovrebbero essere in sedi 3 qua dove sono io? orecchini cravatte o orologi no no che cosa hai vinto? è un riocci un abito non mi ricordo ma dove hai vinto? dov'è che state vincendo? qua gli abiti devi andare che cazzo c'è qua? aspetta io mi compro un orologio voglio quello ora tutto figato cos'è questo? ahhh la corsa dei cavalli c'è oh c'è la corsa dei cavalli non lo sapevo ma che figato eh si prevevo per fare una scommessa allora scommetti scommetti scommetto scommetto sul oh c'ho la camicia di Tommy Verseti di GTA Vice City ah aspetta una questo ancora via vincitor c'è 500 dollari scommetti vai 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 dai 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 ho puntato 500 dollari sul 4 dai cioè pure per l'orologio mi da comprare le fischi cavallo ma che c'è l'orologio con i fischi? si devi comprare le fischi al bancone pantaloni sportivi vestiario solo pantaloni sportivi mo cassini mica che figate sti mo cassini ah mi da andare a ritirare le fischi beh eh si e allora aspetta mi raccomando eh ma scusami il mio vestito è dove cacchio? è qua dove stanno i vestiti bro? e non me lo fa vedere dove stanno i vestiti? qua ma dai ma possibile che neanche la corsa dei cavalli vinco? eh il giro oh 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 non succede non succede non succede dai 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 cazzo dai che ci sei dai ma porca miseria dai 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 che stai rimontando dai bravissimo dai oppure mi sa che forse l'hai già vinta dai cazzo dai 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 guarda lì guarda lì dove sono io dai dai che ce l'hai fatta dai che ce l'hai fatta ma vabbè dai dai che palle guarda questo cazzo di cavallo dai che palle dai che palle che palle veramente ma che cazzo 500 dollari ho perso ma voi dove state giocando? io sto andando a casa a fare? cosa c'è? perchè vuoi vedere la macchina che mi ha dato io voglio vedere quanti giochini ci stanno tipo se vado da qua che succede? ah forse sta red the mist scuro sbloccato ah qua torno praticamente ok da qua qua torna the fish ma obru dov'è che stai giocando che stai vendendo tutte queste cose? guarda sono nel camerino eh ma non si apre quel camerino ma tu dove sei? ma tu non sei nel camerino nel casino sono eh ma non sei nel camerino nel camerino del casino? eh? ma quello devi vincere quelle roba aspetta aspetta ma nel camerino del casino? si e dov'è? guarda dove sta bruno lo vedi sulla mini mappa ah già ah ci devi andare alla cassa per riscuotere ah ho vinto mille fish oggi come ho fatto? ma come cazzo hai fatto a vincere mille fish? devi andare alla cassa ah il bonus giornaliero ah il bonus giornaliero già ma ora me lo vado a prendere ok scusa mi dai i miei soldi? qua qua tu ma gli dai i soldi? si buono allora eh ritiro la fish che è vero no buono su giornaliero grazie ciao ciao bella ciao ah che macchina di merda che ho vinto ah vedi dove è il camerino ah ma si possono comprare quelle cose o bei 9F orecchino ah ma con le cuffie è difficile ah ho vinto l'R8 ho vinto ciocche di pelle gila qua che c'è? scusami no i vestiti completi non ci sono qua i vestiti comprati? completi completi non ci sono sono devi andare a prenderli nei negozi di vestiti ah non c'è un cazzo che c'è anche la la cosa al casino ah ma con le fish c'è devo prendere il nuovo lo fish allora ragazzi cosa vogliamo fare? eh tu dici che dobbiamo fare la missione aspetta un attimo facciamo la missione ma si può non c'è la missione mi venite a dare una mano a me a fare cose a vendere a vedere se riesco a prenderla questa merce io me la posso votare sono anche vabbò andiamo che mi sono rotto le palle io io salgo un attimo su per vedere a che punto sta la mia fabbrica dei dei di cioccolato dei dindini la fabbrica dei dindini ma perché non riesco a uscire a esci ok la distrazione la distrazione bene bene ma non benissimo dove vado? cazzo fermo raggiungi la vetro c'è più alta con un velicolo da terra tipo così minchia 192 e dove cazzo la raggiungo sta con ci deve essere una un'autostrada qualcosa come si entra che cazzo aspetta ma a me non me la vediamo la segna non c'è troppa la moto meglio è la moto dai levati 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 che mi vengono e zitto se vengono cazzo cazzo perché non mi indica la velocità mamma mia che palla vabbè usciamo da sta casinò allora ce la facciamo una missione ci inviti ciccio sto un attimo alla la fabbrica dei soldi vado a andare a comprare i vestiti ahhh beh mi sono distratto porca la puttana porca la miseria vada 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 minchia sono morto mi hanno occupato è stato venga la squadra dopo in test cornuto figlio di puttana vabbò dai ragazzi facciamo l'ultima che io poi stacco legge trasporti facciamo vediamo un attimino un attimo controllare qua la situazione come pesante allora 130.000 dollari mi venite a dare una mano a fare così a recuperare della merce va bene ma ci dovreste invitare oh caro oh ti funzionano i freni cazzo bravo bravissimo dai via aspetta che io non devo avere testimoni fermo aspetta ok hai soldi si hai soldi vi è arrivato il invito si 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 ok andiamo a fare la missione andiamo a comandare bruno sono unito tanto manu accetta si è già fatto si è diventato un membro dell'imc si è staccato il gesto ma mi sono unito ma dove sei tu scusa si sono alla la posta ma che filipo scorsa conferma di rubare scopo dal su subito conferma di fornimento ah quindi ti devo praticamente raggiungere eh silenzio devo passare mi dovete dare aiuto vedete qua vedete dove sta il puntino giallo sto avvenendo sto avvenendo un saluto a lilli e il vagabondo se vado da qua minchia un albero c'era uno dai che palle non sali no ma stardo ci vuole il gippo non sapevo mamma mia mamma mia mamma mia lascava shit oh shit this is a real this is a real this is a real diventa ma la velocità massima la faccio quando dopo che è finita l'evento giustamente oh ma è scomparse il puntino giallo no Sì No, ti dico di no Io ce l'ho ancora Ma se ti dico di no Come ti ho scomparso, scusami Sì C'è quanto cazzo è lunga sta strada Ma dov'è sto coso? Quisisci il livello di sospetto Ah, devi diventare perché sei sospettato E come sei sospettato? Sei sospettato Te ne ho sospettato Cioè, sei inseguito dalla polizia? No Ah, ma è rovinato la performance Nell'aria sparisce il puntino Vinciamo a rovinato la performance, sto testa di cazzo Ok, acquisisci un livello di sospetto Devi sparare a qualcuno Devo sparare a qualcuno? Sì Ma la muro a Ciro Metti Mantieni il tuo livello di sospetto finché non appaiono adesso Finché non appaiono? C'è la polizia che mi sparo Ma va dai Che cazzo ti sparo? Non è vero Ma perché dici cazzate? Puoi tenere l'attenzione E a mo' devo restare nel cerchio Minchia, pure a me mi sta sparando Che cazzo devo fare ora? Ciccio? Che devo fare adesso? Mi devo nascondere? La devo seminare Eh che pare, l'ho fatto posta di blocco Dai, dai, levati Ho ciampato Maggi ma dove sei? Sono qua dietro Dai, 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 veloce Non tieni il livello di sospetto finché non appaiono le scorte Levati Vabbè, devo seminare a questi insomma No, non uscirò dal cerchio No, non devi seminarli Che cazzo devo fare? Da quale cerchio? Io non ne vedo cerchio Devi mantenere il livello di sospetto finché le scorte non appaiono Ah Eh, ma hai sbattuto, hai visto che mi hai sbattuto? Eh Taglia Una taglia di mille è stata piazzata su di te E chi è stato? Se avranno bucato la gomma Sicuro? Lo sento che avranno bucato la gomma Testa di cazzo Oh bro Oh, sono arrivata la scorcia Ruba le scorte Oh bro Venite a prendere Dai, dai, dai Vattene cazzo Che palle Sono senza macchina Che cazzo sono Arrivo, arrivo Andate a prendere le scorte Andate a prendere le scorte Se le trovo Come cazzo sono? Me le segna qua Ma dove sono? Ma dove sono sti scorte? Le moto della polizia sono E come cazzo la prendo io la moto della polizia? Ok, uno ce l'ho Pure io Mirate al cazzo Mi hanno ucciso Sono contento Beh Pure a me Cioè non è facile questa Ma sei una puttana Sei una puttana Non sai guidare Capito Bruno Ma tu stai continuando ciccio Io sì Sto andando a consegnare la mia scorta Quindi io posso prendere ancora Sì Sì, sì Sì, ancora là Sbrigatevi perché gli altri giocatori Le vedono le scorte Ma che è che sta sparando? Ah, c'è qualcuno che vi vuole ammazzare Sicuro Mi ha crepato di nuovo Ma sono bugati Come spara sto figlio di buono No, no Uno che prende le scorte Che uno prende le scorte E l'altro cerca di ammazzare l'altro Uno che prende le scorte E l'altro cerca di ammazzare l'altro Capito una minchia Uno prende le scorte L'altro cerca di ammazzare il nemico Oh, il mio Emanuele ha preso L'altro giocatore Che? Eh, ma quell'altro giocatore ha preso le scorte A me lo vediamo Oh, è sulle scorte Ma lui le può prendere? No, non le ha prese Sì, le può prendere Ma se le prendeva me la segnava Mica, ma come? Che stai facendo adesso? Sto andando all'escorte Ho trovato un camion È l'unica cosa che ho trovato Ho preso Ma come mi sta uccidendo? Vedi, ma questo secondo me è così i trucchi Perché? È perché c'è Mi sta uccidendo Alla cazzo Nella macchina veloce Ok, va Dai Cazzo vuoi? Ok, beh, ci sono Minchia A ponciarello paro Sono fantascientifico Basta Minchia È una figata sta moto È una figata Oh, bro Hai presa la scorta E ce l'hai tu la scorta Se erano due Non ci credo Non ci credo Che è successo? L'agenda non sa guidare proprio Cazzo Vai, vai Vai Strada, strada Strada che C'ho a Cosa? A ponciarello che mi aspetta Strada Dai Cazzo Ho visto all'ultimo Sto arrivando Tu tieni duro Che ti sto venendo A dare una mano Ma che? Io Io Sto arrivando Che c'è bisogno? Io ho preso la moto Sto arrivando Non so Se qualcuno ti insegue Capito? No Non mi insegue nessuno Proprio sono alla pace Cazzarola Qua io Ho rischiato Veramente Tanto 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 E me la canto E me la suono Dai Ui Basta Fama la testa E' come va Sto E' come va sta moto Che te la pongo 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 Yeah che figata dovevo andare da lì dai guarda sto cornuto sei solo invidioso perchè io la moto e tu no ma hai visto che quando guida si tocca le palle hai notato quando guida si tocca le palle fai le grattate scorte consegnate due su due vaga ma ammazze bro ma bro non mi ammazzate da entrare dentro ma qua che cazzo stanno riciclando? minchia i soldi stanno riciclando bravi ragazze bravi che cazzo vuoi? ma che è sto cosa? che è la vostra via? oh bro guarda guarda soldi falsificate mamma la schiena l'ha commessa poverello è bene commessa però eh oh bro ma come hai rotto le palle ma ti stai fermo minchia come ti prenderei a schiaffi qua mamma mia come stai a prendere i coglioni dai sulle mani sulle mani ma datemi una mano che andiamo a consegnare salto ma non ho capito tutti questi soldi che stiamo facendo fare ma a noi ci tocca qualcosa mi devi fare un buonissimo ma poi pure dovete sparlo ma che palle ragazzi commentate se volete che sparo a bruno non appena usciamo fuori da questo cazzo di magazzino mamma mia come stai guarda mamma mia come stai a mamma mia come stai a scusi scusi mi puoi lavare ok raga ognuno che prenda un furgone volevo ancora si ognuno prende un furgone ognuno prende un furgone e lui se ne è andato in macchina ma ti rendi conto quanto è coglione ma scusi ma per chi è quelli c'è lontano non ha capito sei un cazzo guarda leo a mia casa di christ ma c'è un'elicottero non è che mi segua ma ma che avranno il cino di gelati raga occhio che gli altri giocatori vi vedono quindi mi raccomando ci devono vedere siamo su youtube apposta nooo gli altri giocatori e i suoi giochi vi vengono a rompere i coglioni oh c'ho il furgone dell'ups c'ho bravo grazie dell'up dell'up ecco già qualcuno sta rompendo i coglioni no se l'elicottero si sta rompendo i coglioni c'ho due elicotteri oh porca miseria bastardo c'è praticamente vai giù mi stanno rompendo le palle devi morire nooo minchia mi ha preso eh vabbè ciao eh si guarda dietro grazie dobbiamo infettuare 15 consegne curo e sto passo manco una minchia quella non è morto? no cioè ma mi ah ma è blindato c'è lo specchietto dietro dai cammina cazzo ma com'è lento stu cosa minchia non cammina oh ciccio non cammina per niente mamma mia come non cammini minchia è scoppiato oh ciccio nooo eh ma come ho fatto come ho fatto c'è mi ha chiesto come ho fatto mi stanno mi stanno prendendo con i missili meno male almeno male hai cacciato a me in mezzo ai piedi ma non sale sta cosa su eh no c'è ma non c'è ma non c'è no come hai fatto ma com'è lento sto camioncino ma io potete seguire a me dai vai dai vai ti seguiamo a te per fare cosa scusa vabbè vabbè è arrivato devono venire apposta per rompere i coglioni mi ha crepato mi ha crepato mi ha crepato devo venire solo per rompere i coglioni eh sì ma se questo camioncino è troppo lento cioè ma sono altri giocatori questi qua sì ho perso 200 mila dollari eh vabbè dai pensa a saluti mi sta crepando mi stanno crepando poi giù mi stanno pianti tutti i porti eh compare vi devi spendere in medicina su GTA 200 mila dollari mizca mi ha crepato poi giù ma io scrivo ma tua mamma quando ti ha messa al mondo no? mizca ma è una sal ma io non me le ricordo queste macchine che fanno che facevano così oh dov'è ma che cazzo vuole questo mo da me? dai lo ti coglioni buon amico mio dai dov'è che? andiamola a prendere andiamola a prendere oh è del ct ct che caccio ce l'hanno ucciso meno male che l'ho deposito sempre che cazzo è successo? impressionante ammaggio la puttana niente missione fallita beh direi che la missione è fallita allora io personalmente mi fermerei qui che dici ciccio? si 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 ciccio è morto ma è morto con la macchina? e se no sto uccidendo sto stronzo il tuo pezzo di merda allora ti aspettiamo ciccio perché giustamente devo andare a rompere i coglioni quando ho ma facciamo una cosa ci riuniamo riuniamoci obbro vieni da me ma io sto cercando una macchina ma quale cazzo di macchina? che ti serve la macchina? e sono in mezzo a nulla pure io sto andando a pietre bianca ecco dai troviamoci va bene ragazzi che facciamo? vai ve la chiudiamo? ma io direi anche di si perfetto dai allora allora bene con la macchina così aspetta che me ne vado sulla strada magari che ok allora ragazzi diciamo che per oggi è tutto ma solo per oggi bene bene ma non benissimo allora premessa ci rivediamo domani 21.30 con una live su GTA 5 mi raccomando lasciate un like condividete il video su facebook instagram a casa con gli amici parenti quello che volete se vi è piaciuto amici parenti serpenti velenosi tutti poverino però mi raccomando che stavo dicendo mi fai partire sempre il segno ma ti rendi conto ah se il video vi è piaciuto laccheggiate 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 mettete il like laccheggiate sempre laccheggiate laccheggiate la campanellina di bianchino così Ivy vi può vedere iscrivetevi naturalmente vedo vedo persone vedo persone in live io le vedo qua in tempo reale bene queste persone vedo persone in live da me ottimo ottimo non dico il numero per un diritto sulla privacy ok ragazzi mi raccomando ragazzi ripeto condividete iscrivetevi laccheggiate e ci rivediamo domani 21.30 domani pomeriggio probabilmente con una live su Minecraft a chi piace a chi non piace lasciate un commento sotto il video ci fate sapere cosa vi piace cosa vi piacerebbe e cosa vi piacerà ciao a tutti ragazzi un bacione grande ciao ragazzi pure io buonanotte ragazzi